Buonasera e benvenuti a Prato 7, la rubrica della domenica di TV Prato che ripercorre i fatti salienti di questa settimana. Una settimana caratterizzata dai fatti violenti avvenuti nei pressi di alcuni bar, quello avvenuto a San Paolo che ha portato all'arresto di due giovani, due ventenni pratesi per il tentato omicidio di un coetaneo, poi altri episodi invece quelli in pieno centro storico che hanno portato e spinto i gestori del locale, del bar Datini a togliere i tavolini per allontanare alcuni clienti indesiderati. Poi abbiamo parlato anche della settimana che ha introdotto lo switch off, il passaggio alla seconda generazione del digitale terrestre per quanto riguarda l'emittenza televisiva, una notizia che ci riguarda direttamente perché è una svolta per TV Prato che adesso arriva a trasmettere su tutto il territorio regionale. Infine per concludere alla voce spettacoli e cultura la presentazione della Prato Estate 2022 con oltre 50 eventi in programma e la 444esima edizione della Festa della Polenta tenutasi a Vernio lo scorso fine settimana che ha riscosso una grande partecipazione di pubblico. Ma andiamo con ordine, cominciamo da lunedì scorso quando una delle notizie di apertura è stata proprio quella relegata al brutale pestaggio avvenuto nei pressi di un bar a San Paolo. Due ventenni pratesi sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver ridotto in fin di vita un giovane marocchino dopo una lite degenerata al nuovo bar 2000 di Via Ciabatti a San Paolo. L'episodio è accaduto giovedì sera quando il magrebino, che ha qualche precedente per droga, è stato preso a pugni e calci dai due giovani pratesi che si sono accaniti nei suoi confronti anche quando la vittima si trovava a terra. Il ferito, trasportato d'ugenza all'ospedale, è tuttora ricoverato in prognosi riservata a seguito del grave trauma cranico riportato. A documentare quello che sembra un vero e proprio pestaggio è stato un video, estrapolato dalle immagini di videosorveglianza del locale, che ha indirizzato gli investigatori della squadra mobile nella ricerca dei responsabili. I due presunti autori delle violenze sono stati poi rintracciati dalla polizia sabato mentre si stavano spostando in auto in Emilia Romagna. L'udienza di convalida dell'arresto si terrà nelle prossime ore presso il Tribunale di Bologna. Nel frattempo proseguono anche le indagini della squadra mobile per fare piena luce su un altro tentato omicidio, quello del sessantenne cinese ferito a colpi di mannaia al volto, ad una spalla e alla gamba, da un connazionale che lo ha aggredito all'interno di un appartamento in via Carraia, in centro a Prato. L'aggressore, un uomo di 53 anni, è stato arrestato dai poliziotti che hanno utilizzato il taser per costringerlo a deporre la mannaia. La vittima, per fortuna non in pericolo di vita, è lo zio di una donna di 29 anni che il giorno precedente avrebbe subito un approccio sessuale dallo stesso 53enne con cui condivideva l'appartamento. Per avere un chiarimento sull'accaduto, lo zio della donna si sarebbe recato venerdì mattina in via Carraia, dove è stato ferito a colpi di mannaia. Ne parlavamo in apertura, straordinaria partecipazione di pubblico lo scorso fine settimana a Vernio per la Festa della Polenta, giunta alla 444esima edizione, un'iniziativa che è importante anche sotto il profilo storico della rievocazione storica. Ha vinto il desiderio di ritorno alla normalità, la 444esima edizione della Festa della Polenta è stata caratterizzata da una straordinaria partecipazione. Un bilancio davvero positivo per una delle prime rievocazioni storiche che ricorda la terribile carestia che colpi Vernio nel 1512 in seguito all'invasione spagnola della Toscana e al sacco di Prato. La popolazione si salvò grazie ai conti bardi che ordinarono la distribuzione di polenta dolce fatta con farina di castagne, aringhe e baccalà. E così è stato anche ieri con la distribuzione che, come prevede il cerimoniale, è stata preceduta dal corteggio storico, a cui hanno preso parte 600 figuranti con i loro affascinanti abiti d'epoca. Finalmente torniamo in piazza, una festa importante per il nostro territorio, è la festa del nostro comune con tutti i nostri volontari che finalmente mettono a frutto il lavoro di tanti anni perché i volontari non si sono fermati nemmeno durante la pandemia e quindi davvero una bella festa di popolo, una festa della nostra comunità, una festa per la quale vanno i ringraziamenti a tutti gli organizzatori e il ricordo a chi purtroppo in questi due anni ci ha lasciato. Quindi dedichiamo la nostra festa e la polentina alle tante vittime del Covid di questi due anni. Fra le feste che hanno un autentico significato nel corso dell'anno, quella che si svolge a Vernio è un po' la prima. Questa rievocazione va portata avanti perché è una narrazione di una storia bella di una toscana che riconosce qui uno spirito di comunità che ha le sue caratteristiche, originalità e lo vediamo oggi l'attaccamento alla propria terra di coloro che vivono nella contea di Vernio. La bella giornata ha favorito la buona riuscita dell'evento, un risultato che spinge gli organizzatori, Comune e Società della Miseria, a una riflessione sulla data di svolgimento. Si potrebbe ipotizzare di lasciare comunque un appuntamento celebrativo nella prima domenica di quaresima, data tradizionale dell'evento, programmando il corteggio e la festa in primavera, detto l'assessore alla cultura Maria Lucarini. Martedì scorso abbiamo raccontato di un incidente stradale avvenuto in via Bovio, nella zona di via Pomeria, all'incrocio con via del Romito, dove i residenti e frequentatori della zona denunciano una prassi scorretta da parte di tanti automobilisti che commettano un'infrazione stradale, un'infrazione piuttosto pericolosa. Un uomo di 68 anni in sella ad uno scuterone è rimasto ferito in un incidente avvenuto all'ora di pranzo in via del Romito. Il motociclista percorreva la strada provenendo da via Pomeria, quando si è scontrato con una Mercedes classe A che ha impegnato l'incrocio giungendo da via Bovio. Il 68enne è rimasto a terra ed è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Prato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, l'incidente è stato provocato dall'automobilista che aveva lo stop e l'obbligo di svoltare a sinistra, ma invece è andato a diritto per ricongiungersi in via Pomeria. Una manovra vietata, eppure compiuta con una certa frequenza dagli automobilisti pratesi che già in passato aveva innescato alcuni incidenti, come segnalano residenti e frequentatori della zona. Purtroppo questo è un incrocio un po' maledetto. vuoi per disattenzione, vuoi perché magari chi proviene da via Bovio non rispetta l'obbligo di incidare a sinistra, però ovviamente non conosco la dinamica di questo incidente, però fatto sta che ogni pochino qui purtroppo c'è un incidente. Quando sono due macchine va bene. Oggi purtroppo non è andata bene, perché c'è stata una macchina e uno scooter e il signore credo sia fatto un po' male. Insomma, quindi spero che veramente si prenda delle misure contro questo incrocio, secondo me, molto pericoloso. Noi lavoriamo qua sopra lì, proprio questo incrocio. Si viaggia sulla media di un incidente al mese. Cosa potrebbe essere auspicabile per migliorare la sicurezza di questo incrocio? Allora, non sono competente in materia, non ho neanche il ruolo per poter dare una soluzione, però chi arriva da via Pomeria, mi sposto un attimo, che è quella via laggiù, arriva ad alta velocità e a mio avviso, perché anche io faccio questo incrocio, queste macchine qui impediscono un po' la visuale di chi arriva, quindi magari già potrebbe aiutare pulendo la visuale delle macchine in arrivo. Qualche altro residente chiede di valutare la posizione del senso unico in via Bovio con immissione da via del Romito. Altri fanno notare la segnaletica a terra sbiadita, linee di stop che si sovrappongono e strisce pedonali incomprensibili. Per contrastare il problema principale, rappresentato da chi da via Bovio non rispetta l'obbligo di svolta a sinistra, la Polizia Municipale in passato ha già effettuato controlli con multe ai trasgressori, controlli che proseguiranno, fanno sapere dal comando di Piazza Macelli. Spettacolo e cultura. A partire dal 2 giugno, la città si anima con la Prato Estate 2022. sono oltre 50 gli eventi in programma tra musica, letteratura, teatro e cinema. Dopo le anticipazioni di Off Toons e Centro Pecci Summer Live, è uscito il cartellone completo della rassegna Prato Estate 2022, progetto dell'assessorato alla cultura del Comune di Prato. Il primo appuntamento in calendario è giovedì 2 giugno. Seguiranno una cinquantina di eventi. Musica, teatro, cinema, letteratura saranno ospitati nei luoghi più amenni di Prato, da Villa Rospigliosi alla Corte di Manifatture Digitali Cinema, dal Castello dell'Imperatore al Giardino Buonamici, da Officina Giovani al Chiostro di San Domenico, dall'Anfiteatro di Santa Lucia a Palazzo Datini e ancora a Palazzo Pretorio ed altri luoghi pubblici delle frazioni. Il Comune ha predisposto il programma valutando gli oltre 100 progetti pervenuti in risposta ai due avvisi pubblici banditi a gennaio e febbraio scorso. Il programma completo è consultabile dal 26 maggio sul sito www.pratoestate.it Sarà possibile tornare al cinema, ovviamente al Castello dell'Imperatore, dove ci saranno anche due festival cinematografici. Sarà possibile tornare ad ascoltare il jazz a Villa Seguirò Spigliosi, la rassegna di teatro dentro Santa Caterina, dentro le antiche stanze e nel cortile, in particolare nelle manufatture digitali, e poi ancora al Giardino Buonamici in collaborazione con la provincia, dopo l'anticipazione di Centro Pecci Summer Live, che ospiterà tra gli altri Zen Circus, il 3 e Popix, e dopo l'anticipazione di Off Tunes, il festival che dal 9 al 12 giugno invaderà gli ex mascelli, Officina Giovani, con quattro giorni di musica rock e con la festa del Cencios l'11 giugno, un'occasione invece per presentare tutti gli altri appuntamenti che caratterizzeranno la città, da Viaccia al Monteferrato, al Centro Storico, ad altre frazioni che saranno coinvolte da un'offerta assolutamente variegata nella stragrande maggioranza dei casi all'ingresso libero. Ne parlavamo in apertura dello switch off, il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione che porta TV Prato con il segnale in tutta la Toscana, in tutto il territorio regionale, a cominciare dai giorni scorsi dalla Lunigiana, dove siamo stati anche con le nostre telecamere per documentare all'interno di una famiglia questo passaggio storico per quanto riguarda la nostra emittente. E poi chiaramente nelle settimane successive, anche a partire dai prossimi giorni, lo switch off, il passaggio al canale 75, riguarderà anche il territorio di Prato. Comunale E' partito oggi lo switch off in Toscana, la zona della Lunigiana e la provincia di Massacarrara sono le prime in cui si vede TV Prato sul canale 75, la famiglia Bertazzolo Ascani ci ha ospitato ed è stato un momento anche per riflettere sulle abitudini di fruizione della TV. In particolare che tipo di programmi guardate più spesso? Allora, dipende dalle fasce orarie perché ci sono le fasce orarie in cui c'è l'informazione allora magari facciamo anche due o tre canali diversi con l'informazione e poi magari la sera dopo cena allora vai anche per un film. Ci sono delle differenze tra i vari componenti della famiglia, lei ha anche due figli giovani nella fruizione proprio della televisione. Sì, anche se l'informazione diciamo è abbastanza diciamo univoca sia per i grandi che per i più giovani e poi vabbè loro preferiscono magari anche programmi di intrattenimento quelli giovani, capito? Quelli che noi di una certa età siamo un po' allergici. Chi è che guarda più TV nella sua famiglia? La mia figlia, quella più piccola. Quante ore per curiosità stai al giorno? E in quale parte della giornata? Dipende dalla giornata però le giornate in cui me lo posso permettere anche un paio d'ore a pomeriggio. E invece per quanto riguarda la novità che parte oggi proprio da questa zona della Toscana, del digitale come vi siete preparati? Allora facendo la risincronizzazione dei canali che non è stata facile volevo dirlo perché io sono poco tecnologica. E da oggi si vede in lunigiana anche TV Prato sul canale 75. Esatto, infatti questa è una bella scoperta perché non lo sapevo e l'ho scoperto oggi mi ha fatto molto piacere perché ritengo che sia fondamentale l'informazione locale. Furti a commercianti inglesi e francesi di pronto moda i carabinieri arrestano tre persone e i militari del radiomobile sono riusciti a cogliere in flagranza di reato i ladri e c'è anche un video che immortala come hanno agito. Girano il macrolotto in auto tenendo d'occhio i movimenti dei clienti dei pronto moda cinesi che arrivano da tutta Europa per fare ordini a Prato puntano alle loro vetture in cerca di borselli lasciati e incustoditi forzano le portiere e rubano gli effetti personali trovando spesso oggetti di valore. È il modus operandi di alcuni specialisti di questa tipologia di furti i carabinieri ne hanno arrestati tre in flagranza di reato poco dopo che erano riusciti a svaleggiare l'auto di un commerciante di abbigliamento inglese recatosi a fare affari in un pronto moda di via dei fossi. I ladri, tre trentenni con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio di cui due residenti a Prato ed uno nel Pistoiese hanno agito in pieno giorno muovendosi a bordo di un'auto che era tenuta d'occhio dai carabinieri per altri simili furti commessi nei giorni precedenti. Avevamo individuato un'auto sulla quale si muovevano i ladri e siamo riusciti ad arrestarli l'altro giorno dopo l'ennesimo colpo a danni di un cittadino inglese. La fragranza è sempre abbastanza difficile perché ci vuole l'attimo giusto e trovarsi nel momento giusto e nel posto giusto. In questa occasione la nostra radiomobile è riuscita a cogliere i ladri proprio nel momento in cui si allontanavano dopo aver appena compiuto l'ennesimo colpo e dopo breve inseguimento sono riusciti a fermarli, ad arrestarli. Dalle immagini di videosorveglianza che vi proponiamo nella parte alta si può apprezzare il modus operandi dei ladri che sopraggiungono a bordo della Ford C-Max bianca notano il commerciante uscire dall'abitacolo della Fiat 500 parcheggiata nel piazzale di un pronto moda e decidono di appostarsi in attesa che si allontani. Poco dopo uno dei ladri scende dalla Ford C-Max forza lo sportello della 500 e ne apre il bagagliaio portando via una borsa lasciata dal proprietario. Poi risale a bordo della vettura guidata da un complice senza sapere che poco dopo sarà fermata da una pattuglia del nucleo radiomobile che osservava la scena a poca distanza. Nell'auto dei ladri sono stati trovati vari oggetti tra cui abiti e calzature di valore provento di altri furti in danno di commercianti francesi furti avvenuti poco prima. I tre arrestati per furto e ricettazione sono già comparsi dinanzi al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma al loro carico. Il cardinale Matteo Maria Zuppi neopresidente della CEI sarà a Prato per parlare di ascolto e incontro. L'appuntamento è per lunedì 30 maggio alle ore 21 e 15 nel Chiostro di San Domenico. L'arcivescovo di Bologna era stato invitato da tempo dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini a riflettere sul cammino sinodale della Chiesa e sulle sollecitazioni di Papa Francesco contenute nell'enciclica Fratelli Tutti. Adesso con la recente nomina alla guida della conferenza episcopale italiana l'incontro con la diocesi di Prato assume un valore particolare e diventa una delle prime uscite pubbliche del cardinale come presidente dei vescovi. All'assemblea della CEI nel discorso dopo la nomina Zuppi ha annunciato in modo chiaro quale tipo di Chiesa intende guidare durante il suo mandato. La Chiesa che ascolta e l'ascolto ferisce e quando uno ascolta qualcuno si fa ferire da quello che vive fa sua quella sofferenza e credo che appunto quello che stiamo vivendo ci aiuta anche a comprendere le tante domande le tante sofferenze e anche a capire quindi come essere una madre vicina e come incontrare i tanti compagni di strada i tanti compagni di questo viaggio. Tornando all'incontro di lunedì 30 maggio dopo l'introduzione di Monsignor Nerbini sarà il direttore di TV Prato e dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Gianni Rossi a intervistare il cardinale Zuppi l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di TV Prato e della diocesi di Prato Nuovo digitale lo switch off è riguardato nei giorni scorsi anche la Val di Bisenzio dove TV Prato adesso è visibile sul canale 75 questo è il primo step ricordiamo ancora una volta che negli altri comuni pratesi il passaggio avverrà a partire dal primo di giugno Al via Val di Bisenzio lo switch off al nuovo digitale il passaggio al nuovo sistema di trasmissione è iniziato questa mattina nei tre comuni della Vallata dove da oggi TV Prato trasmette sul canale 75 già da stamattina io ho riaccesso la televisione e si vede tutto come gli altri giorni grandi problemi qui a Mercatale non ce n'è non ce n'è e in passato magari qualcosa proprio di tecnico ma se no si vede bene poi negli altri paesini sono altre realtà magari è diverso però io non lo sapevo nemmeno perciò oggi tutto a posto non ha neanche dovuto risintonizzare i televisori tutto da solo io ho acceso come sempre è partito senza problemi certe volte quando è brutto tempo non si vede sta un po' di tempo senza si sta un po' di tempo senza vederlo si vede che con i temporali va a via il segnale però a me mi fa piacere vederlo TV Prato perché parla di tutti gli argomenti della zona e della valle di Bisenzo quindi mi fa piacere che venga aggiornato ai satelliti come si sa digitali terrestri ma io non vedo niente né primo né secondo né TV Prato né tre vedo solo i canali Mediaset deve fare la risintonizzazione del televisore sì però non so farla fino a che ne arriva il mio figlio stasera rimane così al momento le principali criticità si registrano nel comune di Vernio in particolare a Montepiano e Le Confina dove si segnalano problemi di ricezione delle emittanti locali ma non solo per colmare appunto delle difficoltà che ci sono state specialmente nella frazione delle confina alcuni anni fa abbiamo noi chiesto un'autorizzazione per ripetere il segnale del ripetitore principale di Vernio quindi il ripetitore delle confina che in questo momento funzionerebbe correttamente e tranquillamente è spento perché appunto c'è bisogno dell'ok del ministero per la riaccensione dell'impianto su Montepiano sono ripartiti i canali delle emittenti che hanno gli apparati direttamente sul ripetitore quindi la RAI e Mediaset la RAI con le limitazioni che dicevo cioè con i soli quattro canali principali e Mediaset con tutti i suoi pacchetti parallelamente con l'operatore privato che gestisce il ripetitore in un lavoro di squadra con il comune abbiamo già richiesto anche lì le autorizzazioni alle frequenze tra le tante anche quella di TV Prato che ci auguriamo finalmente possa essere vista anche in quel pezzo di territorio e quindi stiamo procedendo però anche lì siamo bloccati in attesa delle decisioni del ministero un problema non nuovo a Montepiano quello della difficoltà di ricezione del segnale televisivo non si vede tutti i canali non tutti saprebbe piacere anche noi di vedere qualche cosa TV Prato che sta a fare qui non si vede a Montepiano il segnale televisivo non si vede eccessivamente bene ho detto anche TV Prato noi non si vede insomma siamo anche il paese che siamo di Prato primo secondo e terzo e poi sì con Sky si può vedere un po' di più però le TV locale non si vedano questo è un dramma ma è sempre stato sì e questo ci dispiace perché è la TV nostra locale e si avrebbe piacere anche di vederla comunque anche gli altri canali ne vedete pochi lo stesso quindi il problema di TV Prato è degli altri ne vedo pochi anche sul digitale ne vediamo pochi vediamo la metà dei canali che vedono a Prato Scene da Far West in via Cairoli a due passi da Piazza del Comune e un bar è costretto a togliere i tavolini per allontanare alcuni clienti indesiderati il primo caso è stata una rissa un po' la vecchia maniera pugni cazzotti calci e cose così l'evento che è successo la sera è stato più violento con biciclette tirate addosso bottiglie rotte tentare di tagliare quello di fronte cinture che volavano c'è stato tanto sangue in terra è venuta la polizia con l'aria a pulire tutto però ragazzi queste cose non possono succedere in centro bisogna fare qualcosa per evitarle Scene da Far West martedì scorso in via Cairoli a due passi da Piazza del Comune dove a distanza di poche ore nel pomeriggio alcuni uomini di origine magrebina che si erano seduti ai tavolini del bar Datini si sono scontrati di fronte ai passanti in un caso la polizia ha denunciato due persone episodi che hanno spinto i gestori del bar a togliere momentaneamente i tavolini per allontanare i clienti indesiderati L'unica soluzione che abbiamo trovato per ovviare a questa situazione per evitare che questa gente continuasse a venire lì è stata rimuovere i tavoli anche per momnito a loro come di noi non vi vogliamo perché se dovete venire a fare casino noi non vi vogliamo e anche alle persone alla città come di guardate noi ci fai il nostro per evitare confusioni soprattutto in Piazza del Comune perché un altro dei punti è che noi siamo in Piazza del Comune sotto il Comune stesso e certe cose non possono succedere nel centro di Prato Il tema della sicurezza in centro è posto da tanti commercianti e residenti ai problemi legati alla Movida si aggiungono le azioni di spacciatori che si muovono indisturbati anche di giorno altra area complicata è Piazza San Domenico dove oltre ai problemi riconducibili alla microcriminalità sono anche denunciate condizioni di scarso decoro Innanzitutto la pulizia poi ovviamente ci sono movimenti un po' non tanto piacevoli soprattutto la sera sono tutti fuori a bivaccare bevendo birre e non dando un un grado di sicurezza e di bellezza soprattutto per quello che è invece una piazza che io reputo sempre una piazza bellissima ancora cronaca ieri per dare conto dell'operazione congiunta tra carabinieri e polizia municipale di Prato con le unità cinofile che ha portato all'arresto di uno spacciatore nella cui casa sono stati sequestrati 60 grammi di cocaina nascosti nel giubbotto della figlia del pusher e trovati grazie al fiuto dei cani antidroga Tesla e Ritter è stato arrestato in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia municipale di Prato uno spacciatore attivo nella zona di Viale Montegrappa si tratta di un cinquantenne marocchino ex muratore che giovedì scorso aveva da poco ceduto una dose di cocaina ad un coetaneo l'uomo è stato bloccato dai carabinieri e trovato in possesso di alcune altre dosi da un grammo di droga è così stato deciso di procedere alla perquisizione domiciliare a cui ha partecipato anche l'unità cinofila della polizia municipale di Prato grazie al fiuto di Tesla il pastore tedesco che assieme a Ritter compone la nuova coppia di cani antidroga della polizia municipale è stato possibile trovare nell'abitazione del pusher un sasso di cocaina del peso di 60 grammi che era nascosto nel giubbotto di una bambina una dei tre figli dell'uomo siamo particolarmente contenti sia per la collaborazione istituzionale l'unità cinofila è posta a disposizione delle forze di polizia statali per intervenire immediatamente sul territorio quando ci viene richiesto ma anche perché i ritrovamenti sono stati eseguiti dai nuovi cani che sono entrati in servizio a inizio anno hanno completato la fase di addestramento e si stanno dimostrando operativi perché riescono appunto a trovare le sostanze in occasione degli interventi come quello che è accaduto l'altro ieri Carabinieri e Polizia Municipale hanno sequestrato nell'appartamento del 50enne che ha precedenti specifici anche un panetto di mannitolo sostanza utilizzata per tagliare la cocaina ed altri strumenti utili al confezionamento delle dosi che una volta immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare alcune migliaia di euro sequestrate infine anche alcune centinaia di euro ritenute provento dispaccio la collaborazione con la Polizia Municipale è fondamentale ci crediamo fermamente in questo caso la penuita antidroga è per noi un sostegno immediato durante un'operazione di polizia estremamente importante e risolutivo come in questo caso e in altri casi passati e con questo è tutto l'informazione di TV Prato torna con i nostri notiziari domani alle 13.45 c'è l'appuntamento prima ancora con la rassegna stampa condotta da Giorgio Bernardini prima di tutto domani fin dalle 7.30 del mattino continuate a seguirci anche sul nostro sito www.tvprato.it grazie dell'attenzione buona serata www.tvprato.it www.tvprato.it www.tvprato.it